Spegnere le luci quando non servono, sbrinare frequentemente il frigorifero, mettere il coperchio sulla pentola quando l'acqua bolle. Sono alcuni dei punti del decalogo stilato da Caterpillar, la trasmissione radiofonica in onda su Radio 2, che come ogni anno rinnova l'appuntamento Mi Illumino di Meno, data scelta per questa dodicesima edizione dell'iniziativa il 19 febbraio. Se lascia la spazio per spegnere la luce, c'è che non lo finisce, 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 non lo finisce. Anche quest'anno la campagna coinvolge molti soggetti, ascoltatori, associazioni, istituzioni. L'ultimo punto del decalogo raccomanda di utilizzare l'automobile il meno possibile o condividerla con chi fa lo stesso tragitto e di utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città. L'edizione Mi Illumino di Meno 2016, infatti, è dedicata in particolare al tema della mobilità sostenibile con la grande operazione Bike the Nobel. La campagna etica di Rai Radio 2, promossa da Caterpillar, in cui si candida la bicicletta a premio Nobel per la pace. Paola Gianotti, ciclista pluripremiata, ha pedalato da Milano fino a Oslo per portare le firme raccolte da Caterpillar come atto simbolico di consegna della candidatura. L'invito per amministratori e cittadini è quello di basare la propria adesione sul tema della mobilità sostenibile, promuovendo l'uso della bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di pace e di rispetto per l'ambiente. Pedalate cittadine, incentivi a usare i mezzi pubblici, pedibus scolastici, rinunciare un giorno all'automobile sono solo alcune delle tante iniziative che è possibile organizzare nei propri territori per aderire.